Sono qui a presentare la nostra seconda per quest'anno riunione sulla salute che si svolgerà al 22 mercoledì prossimo alle ore 21 presso la sala conferenze dell'hotel Flaminio. Si parlerà questa volta di tiroide, ci saranno dei colleghi medici, parleremo appunto della prevenzione e delle malattie della tiroide e quindi parleremo tutte le patologie collegate alle disfunzioni tiroidee e nell'occasione vorrei anche lanciare la mia idea di fare uno screening di base su giovani con ecografie a un prezzo calmerato per riuscire a fare questa campagna di prevenzione di screening, soprattutto sulle donne. La conferenza si terrà mercoledì 22 alle ore 21 presso la sala conferenze dell'hotel Flaminio presso Coglia al Metauro.